Le famiglie delle vittime degli incidenti stradali subiscono conseguenze che vanno oltre il dramma affettivo. Conseguenze di ordine sociale ed economico si aprono contestualmente al dramma provocato dagli incidenti stradali. Sostenere l'attività dell'Associazione Europea Familiari Vittime della Strada è l'obiettivo per cui domenica, ad Andria, è stato ricordato l'incidente che il 4 agosto scorso costò la vita a Michele Ieva. Stava attraversando via Biceglie, sulle strisce pedonali all'altezza dell'incrocio con via Mozart, il 76enne, quando un tir lo travolse sbalzandolo per quasi 100 metri. Le sue condizioni apparvero da subito gravi e si spense poco dopo all'ospedale Bonomo di Andria. Con la donazione di una targa commemorativa da parte della famiglia Ieva, che con il permesso della famiglia Cellammare è stata applicata sullo stabile che ha fatto da sfondo a quel dramma, una cerimonia tenuta domenica mattina è stata l'occasione per stimolare ancora la battaglia contro le stragi delle strade. Quelle che portano via, solo in Italia, 5.000 persone all'anno, secondo dati Istat che l'Associazione considera comunque riduttivi. In Europa sono 127.000 ogni anno le persone che perdono la vita in incidenti stradali, dati confortanti solo se paragonati a quelli degli anni precedenti, a dimostrazione del fatto che l'impegno per il miglioramento della sicurezza stradale è stato particolarmente forte e che gli incidenti stradali non sono una conseguenza inevitabile della mobilità cui rassegnarsi, ma è sempre possibile prevenire anche solo stimolando l'osservanza di quelle basilari norme comportamentali che il codice della strada impone. La cerimonia di domenica mattina, a cui hanno partecipato anche le istituzioni locali, è stata segnata dalla presenza del coordinatore dell'Associazione Europea Familiari Vittime della Strada, Federico Bianchi, che ha raccontato i tanti modi in cui l'Associazione opera per prevenire gli incidenti e per offrire il proprio aiuto alle vittime dei superstiti e ai familiari.